Per combattere lo spopolamento e l'isolamento dei territori, la Regione chiude il cerchio delle misure messe a disposizione con il nuovo Bando per le Attività Produttive, pubblicato dal Sistema delle Camere di Commercio Regionali. Si tratta infatti dell'ultimo provvedimento dei tre già in vigore nei comuni sotto i 3.000 abitanti, come il bonus nascita, le agevolazioni per le attività produttive e i mutui prima a casa per sostenere la ripresa economica dei territori, favorendo l'apertura o il trasferimento di attività imprenditoriali. La norma prevede la concessione di un contributo da 15.000 a 20.000 euro per l'apertura di nuove attività nei centri a rischio spopolamento. In sostanza, ogni nuova attività aperta e ogni trasferimento di attività nel territorio dei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti riceverà un contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro, che diventano 20.000 qualora si incrementi l'occupazione. A questa misura, a partire dal 2023, si aggancia quella di accompagnamento delle imprese, che prevede appunto dall'anno in corso un contributo nella forma di credito d'imposta fino al 40% delle imposte versate, con il fine di sgravare le attività economiche dagli elevati costi dell'imposizione fiscale. Le risorse stanziate dalla regione contro lo spopolamento, attraverso le tre principali linee d'azione, ammontano complessivamente a oltre 360 milioni di euro. A questo proposito, il presidente della regione, Cristian Solinas, ha dichiarato che per la prima volta la Sardegna ha potuto beneficiare di risorse vere e certe per contenere e contrastare il fenomeno dello spopolamento, incentivando da un lato i residenti a non abbandonare il loro territorio e dall'altro rilanciando l'economia e accrescendo l'attrattività dei territori per richiamare nuovi residenti.